All'interno del palazzo Vescovile di via Montevecchio a Fano, questa mattina il nuovo vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone e Caglipergola, Andrea Andreozzi, ha incontrato i giornalisti della stampa locale per un momento di dialogo e conoscenza. In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, Don Andrea ha salutato e risposto ad alcune domande delle testate giornalistiche presenti, dalla carta stampata alle tv e ai quotidiani online. Dopo quasi tre mesi dal mio arrivo nella diocesi, l'incontro con la stampa mi è servito per dire che ho ricevuto un'accoglienza molto bella, squisita da parte di tutti, sia delle persone, sia delle istituzioni e delle associazioni. In questo primo periodo il mio compito principale è quello di incontrare, conoscere e soprattutto ascoltare. Un altro importante compito e anche lavoro è quello di poter pensare insieme il cammino da fare nel rispetto di quanto è stato fatto negli anni passati. Oggi tra l'altro si celebra l'apertura del Sinodo della Chiesa Universale e mi sembra che questa giornata dunque vada celebrata in tutte le sue espressioni e in tutto il valore che ha. Tra i temi discussi, la situazione dei parroci nella nostra diocesi e i nuovi ingressi. Nel mese di ottobre avremo la gioia di vivere l'ordinazione presbiterale di Don Marco Rulli nella concattedrale di Pergola sabato 14 ottobre alle ore 17. È un momento importante per la nostra Chiesa avere un nuovo prete ed è anche un momento di consapevolezza da parte di tutti. Il mese di ottobre è il mese missionario e a metà di questo tempo vivere un'occasione e anche una celebrazione così bella ci aiuta a riscoprire la missione come compito di tutti nella Chiesa e ci dà coraggio fiducia per il futuro. Entrato in diocesi il 9 luglio scorso prosegue il cammino di Monsignor Andreozzi nelle numerose parrocchie del nostro territorio per conoscere i parroci e i numerosi fedeli. Nei mesi di settembre ottobre molto tempo è stato dedicato anche nell'incontro con i cresimandi e nella celebrazione delle cresime. Questo mi ha permesso di andare nelle parrocchie. Devo ancora però incontrare, finire di incontrare almeno per la prima volta tutti i preti, alcuni ancora devo conoscerli e soprattutto anche le comunità religiose, le varie realtà di Chiesa che ci sono con le quali vorrò avere al più presto un primo incontro. Ringrazio fino a questo momento tutti quelli che ho già conosciuto e chiedo scusa per non essere ancora arrivato dappertutto e soprattutto chiedo scusa a quelle realtà o a quelle persone che sono ancora in attesa che arrivi il Vescovo o di incontrare il Vescovo. Infine Don Andrea quali sono gli obiettivi futuri? Gli obiettivi sì sono quelli di poter quanto prima dare spazio a tutti e dare tempo a tutti per la conoscenza. Poi l'altra grande realtà o comunque l'altro grande obiettivo è quello di portare avanti il lavoro fatto e quindi di vedere insieme quali scelte compiere nel breve periodo e anche sul lungo periodo. Quindi ringrazio fino a questo momento tutti per l'accoglienza, l'aiuto e il calore che mi è stato trasmesso. Sono proprio contento e sono davvero fiducioso per i passi da muovere in futuro.